Signor Mortara, il suo figlio Edigardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via. Se lo portassolo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Ma! Il calatro! Secondo il diritto canonico. Mi taglierò la testa, papà. Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove attenzioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è ebreo! Hai battesato mio figlio. Hai battesato mio figlio! Vai, mio figlio! Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Questa è la tua famiglia adesso. Dio cioè... Giusto che c'è meglio non lo muover mi hanno mai acc